Ciao a tutti, questo è un video di presentazione, ho già fatto altri 4 video per dei concorsi e finalmente mi sono decisa di iniziare a fare dei video per mostrare un po' le mie passioni, per condividerle con qualcuno. Spero che possano tornare utili, parlerò principalmente di capelli, però siccome grazie a Lolla, Miss Strawberry Fields, non so se avete visto il suo canale ma è veramente interessantissimo, andate a vederlo, grazie a lei ho scoperto anche la passione per il make-up e poi farò anche delle review su dei prodotti, ancora non mi sento di mostrare il volto, non lo so, non mi sento ancora pronta, quindi farò dei video così, si vedranno soprattutto le mani che non saranno bellissime perché lavoro in parrucchieria e le ho sempre ultra secchissime, sembrano le mani di una vecchietta, detesto questa cosa perché io adoro le mani curate, cerco sempre di curare molto le unghie ma il tempo è poco e le mani stanno sempre bagnate, quindi sono sempre questa versione rossissima, mi vergogno un pochino ma va bene, non ci fate caso per favore, quindi non pensate che non mi curo le mani, metto crema su crema su crema, faccio di tutto, però sono così, pazienza, abbiate pietà, in compenso uno smalto rosa, comunque ho messo una fotina qui perché era brutto che non si vedesse niente, siccome mi piacciono molto le fadine, voi direte che banalità, quando mi sono cominciata a piacere non andavano così tanto di moda, spero che mi seguirete e spero che trovate interessante il mio canale, ciao a tutte!